Disponibile nell'elegante declinazione Titanium, nella sportiva ST-Line e nell'esclusiva Vignale, la nuova generazione di Ford Edge introduce a bordo il modem integrato FordPass Connect per la connettività in movimento, il pad di ricarica wireless, il SYNC 3 con touchscreen da 8 pollici e un sistema audio da 1000 Watt. Esordisce anche il nuovo motore diesel Ford EcoBlue 2000 biturbo da 238 CV, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti. Sulla nuova generazione di Edge, inoltre, è stato evoluto il sistema di trazione integrale intelligente Ford che permette di passare automaticamente dalla trazione integrale a quella anteriore due ruote motrici. A bordo di Ford Edge debutta una versione evoluta di questa tecnologia che permette di passare automaticamente dalla trazione integrale a quella due ruote motrici a seconda delle esigenze. La nuova modalità utilizza un software a intelligenza artificiale per rilevare le letture effettuate da decine di sensori disposti attorno all'auto ed è in grado di determinare la trazione necessaria in soli 10 millisecondi. Passando alla trazione anteriore e quando non è necessaria quella integrale, la funzione aiuta a risparmiare carburante ed emissioni di anidride carbonica ridotte, adeguate alla normativa Euro 6.2.